Salve a tutti e benvenuti in questo nuovo video dove non so per quale motivo ho questo giuffo. È tre ore che mi sistemo i capelli perché ieri mi sono fatta la piega, ma come potete vedere sono tutti tipo a boccolo, ma la piega io ieri l'ho fatta liscia. Però sono... mi sono tagliati i capelli e tutto, anche se sembrano... sono lunghi. Sono anche truccata, come potete vedere, mi sono sistemata per questo video, anche se vuole capire perché. Cioè sembra proprio un boccolo, cioè so perché. Vabbè, se lo tiro dall'altra parte... non so, mi sono tipo cotonato i capelli mentre dormivo. Forse così riesco a stare meglio. Mi metterò dietro l'orecchio ragazzi perché se no non riesco a gestire i capelli. Perché guarda, i miei capelli naturali sono proprio boccoli, infatti se vedete sono mossi. Comunque, allora, mi sono sistemata un po', mi sono truccata un po' la veloce, un po' la caccia di cane, proprio detto, c'è un po' la cavolo, insomma. Però volevo fare un video un po' più sistemata, anche perché ho gli occhi abbastanza grossi, quindi non si vede nemmeno che ho messo la liner, forse sì. Comunque, era per fare il video un po' più così. Era meglio quello che avevo messo i miei capelli, vabbè. Dettagli, comunque, diciamo che sono cercando i miei capelli, diciamo così sembrano più gonfi da l'altra parte, vabbè. Comunque, ho cambiato di nuovo la mia postazione, che non so per quale motivo non riesco a starci in questa postazione, però. Ho messo qua il mio quadro giapponese, come diceva, l'onda giapponese, con un quadretto bianco, perché volevo perdere l'azzurro ma non l'ho trovata. Poi qua c'è la mia scritta princess. Poi ovviamente questa cosa qua può andare via. Perché volevo fare una mensa a tutta la tema Harry Potter. Con la mensa da là non ci serve nulla. Infatti c'è anche l'Orcrux. Vabbè, dettagli. Comunque, cosa voglio parlare? Praticamente, non so precisamente questo video quando uscirà, perché sto programmando tantissimi video. Se riuscirò lo metterò un po' prima. Sto pensando a fare un video per accontentare un po' di su un room tour. Ovvero il tour della mia stanza, che poi alla fine è la mia stanza solo. Praticamente 4 metri per... 4 metri per quanto? Non so, comunque piccola. Quindi, visto che comunque ho cambiato la mia finestra, si è chiusa dall'altro. Non tanto adesso, non l'ho lasciata aperta per far cambiare l'aria, si è chiusa. Vabbè. Comunque, volevo fare un video interattivo. Poi ditemi sotto nei commenti se siete d'accordo. Volevo fare un video interattivo, praticamente facendo un'introduzione come adesso, breve ovviamente, di pochi minuti. E fare poi due video separati, dove ovviamente farò apparire sullo schermo, dove farò vedere il room tour normale e il room tour in ASMR. Perché? Adesso è tutto perché molti mi hanno detto, ah ma fai un room tour ASMR perché è particolare. Ora, io ho gli ASMR programmati fino a tempo in memore, perché sono tutti quelli che ho scaricato dal canale mio vecchio di SerraSMR, che purtroppo non ce l'ho gestito, perché purtroppo due canali non riesco a gestirli. Anche perché, contante che ancora io purtroppo non lavoro, perché siamo in una situazione un po' così. Però, gestire due canali è difficile, generalmente, se non lavorate. Figuratevi se lavorate. Io ho un canale, comunque era ingestibile. Quindi ho pensato di scaricare tutti i video, perché comunque erano belli alcuni. Alcuni invece li ho dovuti purtroppo adivinare, perché erano tipo speciali, queste cose qua. Quindi qua abbiamo già avuto speciali di 300 iscritti, eccetera, non aveva senso portarmeli dietro. Quindi ho fatto che scaricarmi tutti i video, quelli che volevo portarmi a spasso. Praticamente li sto rieditando qua, togliendo magari l'introduzione, c'è l'intro, e la fine del video. In alcuni magari apparirà, perché magari non sono stata proprio venticolosa, in altri li ho proprio modificati anche. Sia per Twitter, sia per descrizione, tag, li ho un po' adattati al mio canale. Però si vede ovviamente che sono video... Si è bloccato il computer. Vabbè, si vede che li ho adattati un po' al mio canale, che è quello di io. Red Princess, non c'è scritto Red Princess, però l'ho preso perché c'era scritto Princess, mi piaceva. Comunque, questo è tipo un video aggiornamento, diciamo, sul mio canale, perché volevo comunque che tutti sapeste queste cose qua. Adesso io, appunto, volevo fare il room tour, sia normale, che poi quello non è facilissimo, perché devo finire di montare le mensole. Il problema è che io, purtroppo, la mia stanza è stata montata, cioè stata tirata su da un'anticucina. Quindi il muro in cartongesso, ho scoperto che è storno. Perché ho messo la mensola e non va tutta, quindi dovrò farci dei lavori. Sennò che il problema è che qualcuno mi deve aiutare, perché devo seggare le mensole. Perché le mensole sono prima di questa grandezza qua. Devo metterle in un muro che è più piccolo, perché il muro è una parte portante, praticamente. Metà muro è in cartongesso, metà è il muro portante che ho. Che lì posso farci quello che voglio, anche perché c'è già i buchi. Beh, bellissimo. Per cui non mi faccio il room tour, perché la mia stanza è piena di buchi, che devo cercare di coprire. Però lì ci stanno, perché devo metterci due mensole. Quindi saranno un totale di due mensole all'angolo. Che farò con due mensole, che tutte e due verranno poi segate, in ugual modo. Così verranno due così. E un pezzettino verrà attaccato nell'angolo, perché l'angolo è proprio piccolino, perché c'è la tv. Quella parte lì mi serve praticamente per farci due mensole, con tutte le cose di Harry Potter. E metterci finalmente le mie benedette agende, che non so dove metterle. Io ho tutta la schiena piena di roba, che poi non è la schiena. E, sì, è una schiena, il problema è che sotto c'è il condizionatore e gli scatoloni. È bellissima. Quindi devo ancora fare dei lavori in stanza, prima di farvela vedere, perché cerco di migliorare il più possibile. L'altro mi sono occupata anche il cuscino d'Ikea, che alla fine ho comprato anche... Non ho fatto di nuovo il video, perché ho fatto tantissimi video su shopping d'Ikea. Ho comprato anche la cornice, ho comprato anche il cuscino, le mensole. Però non faccio anche il video sulle mensole, ragazzi, che sanno veramente... Poi farvi vedere la stanza e farvi vedere direttamente cosa ho comprato, perché sto completamente a dico la roba che non posso fare ogni volta unboxing o video shopping d'Ikea, perché penso che mi mi andate a fare in cula. Però ho trovato la federa, alla fine non l'ho cucito perché era impossibile. Questo è il mio cuscino d'appoggio quando faccio i video. E ha due colori. Questo qua, lo faccio vedere direttamente, perché tutti i miei cuscini e altri erano molli. Quindi vedrete poi l'unboxing di questo cuscino. Forse prima di questo video non lo so, dipende da come li programmerò. Comunque, questa qua è la cornice, invece è leggermente più grande, però purtroppo sono standard, quindi o tagliavo la tela, o tagliavo, o facevo sbordare il... Meglio farlo sbordare, anche il mio diploma è dentro una specie di cornice gigante. Però adesso farò altri cambiamenti. Invece quello in ASMR è più complicato perché mi devo studiare i suoni di quello che voglio farvi sentire. Quindi, secondo me, dovreste vedere poi tutti i due video a confronto. Perché nell'SMR ovviamente non farò vedere tutta tutta la stanza, ma la farò vedere in una maniera diversa. Ovviamente sarà l'unico video ASMR, forse ci sarà luce, perché comunque vi devo far sentire i suoni con un minimo di luce, perché sennò non vedete niente. E spero appunto che vi possa piacere come farò il video in ASMR. Però vi chiedo poi di vedere tutti i due video, per vedere anche la differenza, perché uno mostrerà tutto e l'altro invece mostrerà qualcosa di più in dettaglio, perché fa sentire i vari suoni delle cose. Dovete vedere poi anche i dettagli. Perché se faccio un video ASMR, magari mi soffermo di più su, che ne so, questa parte qua, che magari c'è delle cose che fanno dei suoni, magari su la, che ne so, la tastiera del computer, su magari come ho organizzato il portalibri, queste cose qua. Non vi faccio vedere, tipo, che ne so, la sedia, per dire. Se non faccio il tapping sulla sedia, ma la vedo difficile. Quindi appena si si è rotta la stanza, che sarà anche pulita, perché farla vedere non pulita in ASMR, in ASMR è un normale brutto comunque. Poi se riuscire a voler, lo sparpagliare qualche, qualche tipo di lucina, tipo, nell'ASMR volevo farlo anche un po' più soffuso, mentre invece nel video normale vi farò vedere anche che tutte le luci che ho. Sembra l'impianto idroelettrico, però non vi dite nulla. Sì, perché ho tantissime lucine, voi non le vedete, ma ce le ho anche qua attaccate. Se no, queste cose qua, vedete che sentite anche il rumore. Sono in rame e si attorcigliano intorno alle cose, io ad esempio l'ho attorcigliata in mezzo a questo. Devo prendere lo stesso gemello, che però non trovo più su Aliexpress, per fare l'altra identica. Prima che non lo trovo più. Devo cercarle uguale, perché dovevo fare l'altra parte. Però vedo, tra i miei ordini magari la riprendo uguale, perché vanno tutte, alcune vanno a pile, alcune vanno a corrente. Però ci tenevo appunto a farvi una cosa più particolare, perché ci tengo qua a questo video. Per altre cose, la mia programmazione, per chi me l'ha chiesto, i miei video ASMR ci sono sempre sul mio canale. Non è che ho bandato gli ASMR, escono ogni martedì sera, alle sette e mezza. Quindi per chi me l'ha chiesto su Instagram tante volte, se guarda il mio canale, o faccio tre video di settimana, il martedì, il giovedì, è il sabato. Quindi, tutti i martedì, alle sette e mezza c'è sempre un ASMR, perché sono tutti gli ASMR miei vecchi, io so che sono vecchi. Alcune volte, se posso, faccio quelli nuovi, tipo ho fatto un video ASMR dedicato alla gemella Betta per il suo compleanno. Quindi, se andate a poi vedere nei video, c'è, c'è benissimo. C'è anche quello lì che è stato fatto proprio last minute, quindi sì, ho intendo spuntare anche degli ASMR nuovi. Però, a raccomando, sto sfruttando quelli vecchi, magari li sto cambiando un po', magari miglioro un po' l'audio, se riesco, ovviamente dove posso. E niente, poi gli devo fare altri lavori, perché purtroppo il ring è dentro di un portamascherine, perché non ho l'appoggio. Io video li faccio tutti sul letto, adesso penso appoggiare il telefonino sulla mia foca. Sì, perché la foca ha proprio una posizione molto stabile. non è il massimo della libidine, però devo cercare adesso poi un appoggio, perché se l'appoggio laggiù in fondo, il telefonino sulla mia finestra, se c'è una folata di vento, butta giù il telefono. Se invece è troppo lontano, mi vedete tipo lontana, molto lontana, quindi non ha senso. devo cercare un appoggio da letto che vada bene. Cioè avrei l'appoggio del, sarebbe il tavolino dove mangio, appoggio il pc, però è troppo alto, perché mi arriva qua. Io sono l'unico seno nana. Però troverò un po' la soluzione, perché pensavo di comprarmi un gancio da mettere nel letto. Visto che qua ho la spalliera, ancora, perché non l'ho tolta tutta, ho tolto solo la parte di un cuscendo. Dietro, come potete intravedere, infatti non c'è il cuscino che è troppo grosso. Comunque qua, e anche dall'altra parte dove mi appoggio, ci sono tutte le spalliere. Quindi voglio sfruttare la spalliera qua, che in durina la volevo togliere, però ci ho ripensato dove la tengo, perché qua ci appoggio sempre le cose, tipo quando mi vesto queste cose qua, alla fine l'ho lasciata. Perché ho pensato di mettere qua dei ganci, sono dei ganci che tengo al telefonino, così che poi si possa storcere, tipo come il ring alla fine, e io posso attaccarci il telefonino, in modo che venga anche più panoramico, e posso farvi anche gli smr o altre cose, e poi si gira, quindi la posso usare in tutte le direzioni. Fare i video haul è un po' più complicato, però ne ho fatto già uno, dove appunto mi cambiavo vicino al letto. Perché ora, come ora il letto stendo in mezzo alla stanza, ovviamente occupa più spazio, però devo dire che sono molto più contenta. Velo sicuramente. Per quanto riguarda gli altri video, il giovedì e il sabato usciranno i video, che non hanno proprio un argomento, sono quelli che riesco a fare, tipo unboxing, video haul, recensioni, mukbang, tutto quello che riesco a fare. Riporterò le tematiche sessuali? Sì, l'ho detto. E perché molti me l'hanno chiesto, sì le riporterò, devo solo ancora scegliere gli argomenti, magari farò un sondaggio. Perché molti mi stanno chiedendo, il video sulle malattie venere, quelli malattie sessualmente trasmissibili, altri mi stanno chiedendo di fare, invece un video su, delle esperienze particolari, sessuali, eccetera, eccetera, perché ho scoperto che tantissime persone sono ancora vergini. Cioè ho già fatto un video a riguardo, però posso anche fare un video dove rispondo alle vostre domande, non è un problema. Però adesso vedo un po', perché comunque non... Devo strutturare il video, perché se parlo in maniato volgare, mi metto nel blocco 18. Sinceramente non l'ho mai avuto, quindi guardi non averlo. Poi per quanto riguarda altri video, no, non farò più video dove faccio finta di essere nuda, perché diciamocelo chiaramente, sono dei clickbait, non sono nuda. Indosso una fascia color carne, che si può vedere benissimo in video, se avete un occhio attento. Infatti youtuber, per quello non mi ha mai messo il blocco, perché anche lì, due o tre ragazzi me l'hanno chiesto. Non sono veramente nuda. Come anche in molti video in estate, ho porto sempre, ho un vestito, ho un top sotto. Non sono di quelle persone che fa video mezza nuda, o, cioè, alcune foto magari dove sembra che sono un po' scoperta, ma sotto sempre ho un topo o qualcos'altro. O magari ho una maglia addosso, perché non sono per le foto da nudo, anche se magari avessi anche io il corpo più figo del mondo, qualche foto particolare la faccio e tutto, però non mi metto a fare foto nuda. Sinceramente no. Cioè io per nudo intendo proprio non portare nè il regista e non è nulla, cioè al massimo l'unica foto che ho più hot, di tutte quelle che mi ha fatto il mio ragazzo, dove ho indosso, perché come sai, la mia vestaglia che ormai è passata, è stata forse la miglior vita tra un po', perché è più di buchi. Cioè l'unica che ho fatto è quella, però comunque sotto, se non sbaglio, avevo anche un altro lenzuolo, perché per la trasparenza. Però per il resto non faccio grandi foto. Poi tanto bene non le metto su YouTube, sono su Instagram, quindi poi se Instagram ha consentito una foto del genere, le banna tutte quelle che sono considerate troppo volgari, mettiamola così. Comunque, per altri video li farò tranquillamente, basta che mi scrivete, non nell'email, perché ho trovato tanti e tanti email, di persone che mi hanno chiesto video tag, video smr particolari, che non lascio perdere. Quindi sì, farò poi tanti video che mi avete chiesto, delle tematiche. I what in tina dei, per ora, nel senso che faccio più i mookbank, perché i what in tina dei, devo metterci l'impegno e devo starci lì dietro e tutto il giorno non riesco mai a fare le foto di quello che mangio, tutto anche perché sono iniziato di nuovo a fare la dieta. Quindi c'è magari al mattino mi sveglio tardi o mi sveglio prima, magari sono di corsa, ma a volte non faccio mai colazione, non è un buon esempio da dare. Quindi è un po' complicato. Magari un giorno se riesco, se non sono troppo di corsa, vi faccio proprio un video di quello che faccio normalmente in una giornata tipo mia. Così magari vi porto con me. Ovviamente vi vedrete con la mascherina, perché sto cercando di evitare di fare video log, perché se non mi vedete con la mascherina sembra una specie di uccello, perché quella lì ha forma di becco da Anna, tra poi con i capelli rossi c'è proprio un uccello. Non mi trucco ovviamente così, però io sono truccata adesso così, perché il rossetto sarà 40 anni che non me lo metto. Mi si appiccica la mascherina e poi non lo sopporto, perché io bevo sempre. La mascherina mi porta veramente una cosa che, altrimenti a parte che mi importa la sfissia, però la metto perché so che comunque è importante tutto, ragazzi, cioè commettetevelo, so che da facile perché sono la prima, quando faccio tipo i ponti o le scalinate, sono la prima che vorrei togliere ma la morsi, però appunto dobbiamo tenerla, so che purtroppo non è bello. Comunque io non voglio che i video torni troppo, sto cercando anche di limitarmi, sto cercando di cambiare un po' il canale, non di stravorgerlo, però di non fare video troppo lunghi, né troppo corti, di cercare di fare dei video comunque che vi possano piacere, sto cercando anche di migliorare magari il mio aspetto se riesco, ovviamente nel periodo scorso sono stata un po' male, quindi purtroppo non ho potuto basare il mio aspetto, poi adesso ho comprato anche dei trucchi, alcune cose le avevo già, tipo avevo una po' che vi farò vedere magari in un video anche, comunque sono una donna, facciamo vedere anche i trucchi sul make-up, cioè vi faccio vedere come mi trucco, vi faccio vedere con cosa mi trucco, e perché sono tutte cose che ho comprato quando lavoravo, però io sono sincera i trucchi li uso finché non si consumano, poi se molti dicono che scaldano, ovviamente se non morì mele secco lo butto, e niente, poi per altre cose il video di cucina, mi avete chiesto anche quelli, però sono i mukbang per il momento, perché in cucina è un po' un problema mettere il ring, ci ho provato e devo essere da sola, cioè se sono da sola, però ora come era un po' complicato con la storia del giallo, arancio, azzurro e blu, è un po' complicato stare solo in casa, infatti in questo momento sono da sola, perché mi sono usciti un attimo per fare delle commissioni con il cane, quindi infatti adesso devo andare anche a cucinare, quindi non è che tutto il suo tempo libero, vi saluto così il video non continuerà troppo in eterno, e spero che questo video vi sia piaciuto, poi oggi se riuscirò ne farò altri, mi rimarrò truccata, mi leggo sulle capelli per andare a cucinare, sperando che non mi coli il mascara, non dovrebbe colarmi, io vi saluto, e niente, spero che questo video aggiornamento ci sta, perché ogni tanto devo fare uno, cerco di farlo uscire prima degli altri video, cerco di incastrarlo da qualche parte, perché se no uscirà a marzo, adesso siamo all'inizio di febbraio, sì mi sono già proiettata in avanti, però se riescono lo incasterò da qualche parte, così lo vedrete prima, ovviamente vedrete che prima sono truccate, poi sembra che sto male, ma perché questo video è stato fatto dopo, tutti i miei video sono pre-registrati ragazzi, quindi se vedrete un video tra due settimane, magari può darsi che l'ho girato anche, o il video di domani per dire, non so se domani usciranno dei video, comunque non so che giorno è oggi, comunque sì, oggi è mercoledì, quindi sì, tipo il video di giovedì, potrebbe essere un video che ho girato anche un mese fa, o due settimane fa, o ieri non lo so, perché i miei video li incastro e li sposto tutti, quindi ho video programmati adesso tipo per, fino a metà marzo per dire, però alcune volte magari li sposto, li cambio in base a quello che mi piacerebbe di più mettere, prima o dopo, durante, cioè, vi saluto che questo video, ho anche troppo sforato, però è un video aggiornamento, quindi ci può stare, dai fatevelo a passare, io spero che lo guardiate tutto, perché è molto importante, e ci vediamo in un prossimo video, ciao!